Ola a tutti i buoni e benvenuti in un video di Dungeon Earth, ovvero io. Porca puttana il microfono, iniziamo bene che cade. Io sono l'unico a cui cade solo il microfono in tutti i video, ok? Facciamo un po' di murder oggi, tanto per variare dai vari video di Dragon Ball. Cazzo. Andiamo. Comunque spero che il video non laghi, se lagga porca la madosta. Allora siccome non ho lo schermo intero per le esigenze di registrazione, speriamo che qualcuno... Dai entrate, 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 entrate. Pezzi di merda, è entrato. Pezzi di merda! Entrate! Eh vaffanculo eh. Ok. Pezzi di merda! Lerci! Dovete entrare. Allora... Abbiate pazienza se lo riesco... Se leggo male. Perché? Questo? Eh vabbè ma dai ma che sfiga! C'è senza leggere? Quello in cui c'era il tipo di prima. Che ormai... Ho visto la schiena la sua memoria. Allora... Questo, questo... Boh! Dai! Mena devo fare un video, è porco! Tra l'altro vi chiedo una cosa, condividete il video, lasciate like, iscrivetevi se non vi siete iscritti. E lasciate un pollicione. Se il video vi piacerà ovviamente. Non è detto che il video vi piacere per forza. Comunque io vi chiedo per favore di comunque lasciare like. Perché non vi costa nulla. E inoltre... Tutti felici? Ma che cazzo? Ma io mi chiedo! Porco due! Mi devo tagliare i coglioni? Mentre questi qua non ci sono. Eh ma dai! Mannaggia la madosca! Dai! 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 Due minuti, ok. Sto controlando la registrazione. Buon Dio! Cazzo! Entrate! Sì! Un player! Uno cazzo! Uno! Tra l'altro ditemi se volete la Paradise Parkour. Attenzione! Se la volete vi porto una serie intera. Di tutte e tre le Paradise. Tutte di fila. Possiamo pure fare una live nel caso. Con... Con il programma. Se riesco a streammare. E nel caso... Vediamo se ci riesco a streammare. Se appena riesco a fare la live. Vediamo se riusciamo a fare la Paradise Parkour un minimo. O la facciamo a live. O la facciamo... Tutta... La facciamo ad episodi, insomma. Una serie. Che comunque, voglio dire... Il video è già tre minuti, ok? Eh, siamo in pochi in sta partita. Tanto per portare qualcosa, ma... Nulla di più. Cioè, voglio dire... Non è che poi sia così importante. Se è un video, non è che... Dobbiamo fare per forza con los aiuti. E comunque... Volevo intrattenere con... Marver. Però a quanto pare... Sono ritardati e non entrano. Guardando i cartelli. E basta. Dovevo registrare la sera. O più tardi, forse. E oggi... Non faremo una cosa normale. Cioè, faremo il tema. Però poi faremo qualcos'altro. Sì. Ok. Immagino già... Chi non sa cos'è Dragon Ball... E uscirà subito. Viola, viola, viola. Io faccio un essere invincibile. Fortissimo. Vediamo. Aspetta. No. Ce l'ho in inglese, dannazione. Ok. Uno, due. Voglio fare tutto un team intero, cavolo. Oddio. Era blu. Se non sbaglio. Blu. Blu. Oh. Blu. Blu. E dammi. Ok. Così. Poi, no. A sto punto... Come la faccio un... Cazzo, non so come fare. E se faccio così? Forse qualcuno ha già capito che sto facendo. Così. Tac. E tac. Magari un po' più qua. E' invincibile. Ha un'aura potentissima. E' mostruoso praticamente. Ah, vi chiedo inoltre di attivare la campanellina, così ogni volta avrete la notifica quando arriverà un nuovo video. Ah, e se arriva qualche hitter a commentare, cancello i commenti, perché, boh, non c'ho voglia e inoltre mi piace farli rosicare. Perché non meritano di commentare il mio video. Allora. Cazzo, come si chiama questo qua? Facciamo. Cacchio, non so come fare questo. Almeno che non faccio... Il turbante in questo modo. Sì, questo è il turbante, in teoria. Se lo faccio così... E' troppo alto, vero? Oggi potrebbe anche stare... E' un marocchino super saiyan. No, che cazzo ho detto? Non so se è un... Superdamechano. Ok, ci sta. Volevo fare anche Goku. Sai che ti dico? Forse ce la facciamo. Allora, arancione. Blu ce lo abbiamo. Nero. E... Giallo. Bianco. Skull. Wither, ok. Per fare gli occhi. No, oppure faccio una direttiva per... E non so se ce la faccio. Cazzarola. Cavolo. Bull. Ora, ora, ora. Cazzomene di chi ha donato. Putta. Eh, ma lo volevo dire. Brava persona. Brava, brava. Era meglio se usavo l'oro, cazzo. Magari ce la faccio ancora. Allora, così. Se non ricordavo male. E adesso... Così. Cazzo, perfetto. Cambia pavimento. Poi, so. Volevo fare un'altra cosa. Col pavimento. Che... Però, vabbè, era fatto tutto in lana. Però... Quindi... Allora... Questa ha tentato di fare uno schifo. E ci è riuscito bene. No, a parte i scherzi. Secondo me... Faranno tutti schifo. Il mio non dico che è ottimo, però. Nabbo. Era Nabbo, proprio. Nabbo pure a scrivere. Questo vuole fare la sfera. E ha sbagliato pure i colori. Chi doveva uccidere? Per primo la sfera o lui? Ti giuro se non scoppia questo. Eh, non è scoppiato, cazzo. Come fai? No, vabbè. Questo vuole fare la sfera a quattro stelle. Però uno, la parte arancione, è quella della sfera. Cazzo, le stelle sono rosse. Buon Dio. Lo sa persino la Toea Nation, che è quella che riduce Dragon Ball, è uno schifo. Come ho usato? C'è, io non so se è normale sta roba. Ok, il mio è questo. Abbiamo visto uno, due, tre, forse io sono o il penultimo o il terz'ultimo. Però Junior e Goku ci stanno un botto. Per chi non si ricorda, hanno combattuto comunque insieme. Però non Ghostbusters erano. Oddio. Che muscoli c'ha? Che muscoli c'ha? Leggendere tutta la vita. Sembra Johnny Bravo. Sembra Johnny Bravo. Oddio, leggendere. Però la camera nella mia ad una mano abbassa tutto. Il botto non male, perché abbassa la camera nella mia ad una mano non si può vedere. Vabbè, che si può fare in teoria? Si può fare pure con i piedi. Infatti Goku l'ha fatto così, vabbè. Ho vinto. Vabbè, comunque mi ha detto che vinceva l'altro con Junior e Bravo al posto di Goku, quello di prima. Quanto stiamo registrando? Fatti, non vedete. Undici minuti, direi. Undici minuti, ok. Direi che possiamo chiudere il video qua. Come sempre il mio nome è Dunjamers. Ci vediamo in un prossimo video. E come sempre... E come sempre sono sempre io, eh. Non cambio, eh. Volevate che morissi, eh, puttane. Non muoio mai, cazzo. 3, 2, 1, ci vediamo in un prossimo video. E... Ciao!